Musica Ciao a tutti ragazzi sono Snikes e bentornati in un nuovo video Oggi come potete vedere siamo in una puntata speciale di Clash Real E beh ragazzi questo è un mega o epico come volete chiamarlo voi Free chest opening Per chi non sapesse cosa vuol dire free chest opening è praticamente quel chest opening Quindi apertura di bauli però senza spendere niente e apriamo solo i bauli dello slot Come potete vedere ragazzi abbiamo a disposizione due bauli leggendari Un baule epico un baule d'oro e poi vabbè il solito baule della corona e due baule omaggio Se non ricordo male nell'ultimo video di Clash Real avevo promesso di portarvi un video del genere Però prima avevo soltanto un baule leggendario da aprire Infatti la mia situazione qualche giorno fa era questa Ovvero due baule leggendari come potete vedere Un baule epico quello che abbiamo sempre qui con noi E un baule magico Però mentre stavo giocando in una semplice partita di Clash Real mi sbaglio e lo apro quello magico Quindi vabbè non gli è uscita alcuna leggendaria quindi state tranquilli Inoltre raga alla fine del video credo di aprire un clan tutto mio ok Ormai ne sono un bel po' le richieste di amichevoli o partite mentre registro Quindi allora per facilitare la cosa ho deciso di aprire un clan tutto mio Dove ci mettiamo ci sfidiamo anche nei video eccetera eccetera Adesso dedichiamoci all'apertura di questi bauli Direi di partire con il primo che è il baule omaggio Allora più 73 di oro e ci stiamo Poi golem di ghiaccio e barbari scelti Va bene raga fino a qui tutto abbastanza tranquillo Andiamo col secondo baule omaggio Più 73 di oro Poi la lapide e i barbari scelti Simile a quello di prima Poi andiamo con il baule d'oro E ci da 163 di oro Un domatore di cinghiali che utilizzeremo sicuramente Più 8 barbari scelti Due capanne dei goblin No niente epica quindi due ercieli Andiamo con il baule della corona Che ci da due gemme Il moschettiere Bombarolo ragazzi Barbari scelti per 31 E ben 5 fornaci Fino adesso nessuna traccia di carte epiche Quindi appunto usciamo queste carte epiche E andiamoci ad aprire il nostro buone epico Due bellissimi bocciatori che potremmo utilizzare con qualche deck un po' sfizioso 3 fulmine che sono buonissime però non le uso E 5 pecca che sono una bomba Però raga io nel deck mio non uso i pecca Quindi vabbè fa niente Però sono sempre buoni Raga siamo arrivati al grande momento Abbiamo due bolli leggendari da aprire Io ovviamente punto a farci uscire due nuove leggendari che non abbiamo Così magari da velocizzare un po' più il deck Da creare nuovi deck un po' più sfiziosi eccetera eccetera Ovviamente mi accontento sempre di una leggendaria che già ho Quindi o il tronco o il boscaiolo Perché comunque le possiamo alzare di livello Però puntiamo su una nuova leggendaria Va bene qualsiasi cosa Mastino Principessa Minatore Va bene Dai puntiamo su qualsiasi cosa dai Cintilla raga Cintilla Sbloccata la cintilla Non ce l'avevamo Quindi nuova leggendaria per noi Madonna che culo Comunque nuova leggendaria per noi Sono felicissimo Perché comunque Sono pronto a portarvi nuovi contenuti E guardate che bella la nostra cintilla Ok di livello 1 Però raga Piano che troviamo le altre Piano piano Fantastica cintilla è una bomba Ragazzi si è utilizzata con il deck giusto Secondo me è sciotta chiunque Quindi va bene Una leggendaria nuova ce l'abbiamo Quindi adesso siamo a 3 leggendari Io punto sempre una leggendaria nuova Come vi ho già detto prima Però mi accontendo di qualsiasi altra leggendaria Quindi raga Senza perder tempo Andiamo ad aprire il nostro ultimo baule leggendario Pronti? Cimitero Si La cimitero per noi raga Attenzione raga La cimitero non ci posso vedere Cioè Tra tutte le leggendari Una delle ultime uscite Quindi Cioè E' spettacolare la cosa La cimitero Guarda sono vicine Che spettacolo Raga Come potete ben sapere Forse qualcuno di voi La sa meglio di me Ma la cimitero E la sparchi Sono due leggendarie fortissime Appunto Su usati con i appositi deck Perché comunque Devi combinare un po' le carte Ecco così diciamo Sicuramente raga I prossimi video saranno Pieni di deck nuovi Quindi Consigliatemi anche voi qua sotto Ci manca solo di creare il nostro clan Allora Nome del clan Dai Scegliamo Clan Disney Un nome originalissimo Direi Comunque Clan Disney Decorazione Mettiamo la bandiera dell'Italia Che è il classico Discrizione Non vedo alcun tipo di descrizione Poi magari ci penso E la metto Tipo aperto Trofei necessari Posizione internazionale Direi di creare Ok raga Il nostro clan È creato Entrate Così magari poi Facciamo delle amiche Insieme anche mentre registro Mi consigliate i nuovi deck E ci usciranno dei bellissimi video Detto ciò Non so più che cosa dire Vi ringrazio per il supporto Che mi state dando Ho visto che l'ultimo video Della bottle flip Vi è piaciuto Un sacco Quindi Vi consiglio di andarlo a vedere Perché Modestamente È uscito una vera bomba Sto pensando Già qualche speciale di Natale Un po' tattico Da portarvi E Visto che appunto Il video della bottle flip Vi è piaciuto Stavo pensando comunque Di portarvi anche Dei video simili a quello Non so più che cosa dire Il cesto winning L'abbiamo concluso Mi raccomando Condividete con tutti i vostri amici Questo video Lasciate un bel like Per il supporto Minimo 50 Per questo video Specialissimo Entrate nel clan Appena creato Iscrivetevi Commentate E ci vediamo In un prossimo video Bella 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 Si